Convalidato il fermo d'indiziato di delitto per omicidio emesso dalla Procura di Vallo della Lucania per il compagno della trans 66enne originaria di Buonabitacolo, ritrovata senza vita lunedì nel centro per i senza dimora del piano di zona S8 da una operatrice, l'uomo a quanto pari ha commesso l'omicidio per motivi passionali, mosso dalla gelosia per la donna con la quale era in rapporti stretti da tempo. L'uomo quindi resta nel carcere di Vallo della Lucania dove era stato trasportato dopo la sua confessione ai carabinieri della compagnia locale, avvenuta poco tempo dopo l'omicidio. La donna era stata ritrovata nella struttura del piano di zona con un coltello conficcato nel petto, il colpo letale inferto dall'uomo che già aveva precedenti penali. Si risolve così il giallo che in questi giorni ha lasciato attonita la comunità ballese.